Finalmente sono riuscito a capire come funziona lo SteadyPod, qui ha tre posizioni, prima di tutto si prende la parte fidettata e si fissa a un supporto dell'iPhone tipo questo qui, ok? Poi si posiziona su Extend e si estende per quanto uno vuole, alla fine si mette questo sotto il piede e si regola la lunghezza più comoda, una volta trovata la lunghezza che più piace si blocca col lock e uno ha un treppiede perché tirando questo non si muove più tanto come prima, per esempio può essere usato in musei dove non sono ammesse i treppiedi e dove c'è poca luce. Comunque carino e utile. Alla prossima.